Oggi iniziamo la famosa serie tanto attesa sull'ingegneria dei sistemi radar, quindi innanzitutto andremo a capire come funzionano i radar, qual è stata la loro storia, il loro background E in seguito potremo andare poi ad analizzare più avanti quali sono le caratteristiche di un dato sistema radar e come progettarli a seconda delle nostre esigenze Quindi iniziamo dando una breve overview di quello che sarà questa serie Innanzitutto partiremo dal contesto storico Poi ci muoveremo verso delle basi Andremo a vedere delle basi introduttive riguardo al radar per poi passare alla serie in sé e per sé Ecco, questi saranno i tre passaggi della fase introduttiva della nostra serie sui radar Quindi iniziamo a guardare una cosa che è sempre importante quando si parla di qualsiasi cosa che è il contesto storico Sto facendo qualche schemino che vi lascerò poi dopo in descrizione al video con tutte le fonti Potrete scaricare poi il pdf di questa puntata sul canale Telegram Partiamo con alcune evidenze dal punto di vista militare Ambito che a noi piace molto La guerra di per sé si basa sul principio di incertezza Non sappiamo bene che cosa farà il nostro nemico E quindi reperire i dati diventa fondamentale Come si dice al primo schioppo tutti i piani vanno a farsi benedire Molto probabilmente Pensate un po' ad operazioni militari come fu lo sbarco in Normandia O ad esempio che cosa divenne dell'operazione stalemate dello sbarco a Peleliu Oppure dell'invasione americana dell'isola di Iwo Jima Ad esempio a Peleliu si pensava di prendere l'isola in due settimane Altro che ci furono delle battaglie molto molto sanguinose Perché appunto non si aveva conoscenza del livello di trinceramento dei giapponesi Come fu ad esempio anche per l'operazione Barbarossa Quando i tedeschi pensavano che bussando alla porta Tutto l'edificio putrescente sarebbe crollato Anche qua i piani andarono a farsi benedire Come accade in quasi tutte le operazioni militari Quindi bisogna aver presente un concetto espresso dalle parole inglesi Come la situational awareness Quindi vuol dire essere consci di quello che succede sul campo di battaglia Di dove il nemico, che cosa sta facendo, che cosa sta pensando di fare Insomma c'è un livello di incertezza fondamentale Che va coperto tramite appunto la raccolta di dati Come può essere ad esempio l'intelligence Per sapere dove si trova il nostro nemico Oltre che spiarlo, quindi passare dietro la linea del fronte Oppure mischiandosi tra di lui sotto mentite spoglie Prima ancora del radar C'erano vari modi per individuare il nemico Ad esempio gli aerei Come le searchlights Quelle luci che vedete nei vecchi film di guerra Ad esempio Che puntano il cielo Per scrutare eventuali aerei Sistemi ottici con l'uso delle lenti Come i minocoli, i cannocchiali Però tutti questi sistemi Avevano dei problemi Possiamo schematizzarvi così Abbiamo innanzitutto il problema del raggio limitato Pensate un attimo Pensate un attimo alle searchlights Non possono andare all'infinito A scrutare l'orizzonte Poi il loro fascio è molto concentrato Quindi abbiamo un campo visivo molto stretto E poi possiamo solo vedere Ad esempio con dei cannocchiali A causa di nuvole o altro Dei bersagli che si trovano nei paraggi Quindi va bene Quando dobbiamo più o meno intercettare Uno zeppelin che si muove lentamente Diventa un problema Quando dobbiamo intercettare Un gruppo, uno squadrone Di bombardieri della seconda guerra mondiale Che si muovono piuttosto velocemente Quindi abbiamo un campo visivo Visivo ristretto E infine Problema del meteo Ora vorrei Parlare un attimo Della questione meteorologica Gli infrarossi E diciamo la radiazione luminosa Vedono le nuvole come opache Quindi E a questo proposito Vi proietto una foto Che andiamo a cercare un attimo Su internet Frutto di una ricerca Del L'ISCP Ora scusate Il brutto della diretta E che bisogna anche Un attimo Reperire la roba online Quindi andiamo a scaricarla Giusto per farvi vedere Quanto sia Importante Il ruolo Delle nuvole Con questi sistemi Diciamo primordiali Ora presento Condividi schermo Ok Condividiamo La foto Come potete notare Anche a causa Della scarsa Della scarsa risoluzione Questo è uno studio Degli SCP Fatto Dal 1983 Al 1990 Dove si è andato A vedere La percentuale Di tempo Appunto In questi anni In questo Quasi decennio In questi sette anni La percentuale Del tempo In cui erano Presenti nuvole All'orizzonte Come vedete Gran parte Del mondo In alcune aree Quasi tutto il tempo Vi sono nuvole Nei deserti Accade Più o meno Sul 10% Mentre in zone temperate Come l'Europa Siamo sulla metà Del tempo Con nuvole E lo scenario Del pacifico Sta pure Anche messo Piuttosto Male Diciamo In alcune zone Si raggiunge Circa L'80% Del tempo Specie sugli isolotti Che erano conquistati Dal Giappone Un 80% Di nebbie Per non parlare Dell'Europa centrale Quindi della zona Ucraina Per arrivare Fino a Leningrado In cui Un buon 60% Del tempo Vi erano Nuvole Per non parlare Ad esempio Dell'Inghilterra Che tratteremo Anche dopo A questo punto Proviamo A tornare Al nostro Tablet Dove Facciamo I nostri Begli Schemini Quindi Eccoci qua Siamo tornati Perfetto E quindi Possiamo Continuare A parlare Dei dispositivi Di Diciamo Di individuazione Del nemico Prima del radar Partiamo Con i dispositivi Sonori Si usava Spesso Il Gli dispositivi Sonori Collegati A uno Stetoscopio Per trovare La direzione Degli zeppelin Abbiamo Dei sistemi Che poi dopo Proveremo A Proiettare Come Con delle foto Però Questi sistemi Che appunto Erano formati Da Delle trombe Rovesciate Soffrivano Di Alcune Carenze Quindi I problemi Erano Innanzitutto Poca Area Di operazione Circa Dieci Kilometri Di Range Poi Secondo Problema Il Campo Di Ascolto Limitato Quindi Servivano Molti Apparetti Per poter Sfruttare Un'ampia Parte Dell'orizzonte E poi Se ci basiamo Sul suono Che cosa Succede Che dobbiamo Per forza Di cose Porci In Posizioni Dove C'è In Minor A minor Quantità Di Background Noise Quindi Di rumore Di fondo Scusate Se Tendo Sempre A pensare In inglese Ma Appunto Avendo Studiato Queste Cose Su Corsi Inglesi Mi Mi Viene Sempre Un Attimo Più Intuitivo Avere La parola Inglese Anziché Quella In Italiano E poi Appunto Tornando Le cose Serie Quando Parliamo Di onde Sonore Il problema E' appunto Il vento Perché Il vento Tende A deviare Le nostre Onde Quindi Abbiamo Problemi Di precisione Di rilevamento E poi Di zona Di operazioni Pensate Alla velocità Di 250 Miglia Orarie 10 km Sono più o meno Pochi Per individuare Un aereo Chiamare i propri Caccia E intercettare Diciamo La squadriglia Nemica E' un attimo Un problema Quindi Si passò Ad esempio A Questi sistemi Che ora Cercherò Di proiettarvi Allora Fatemi fare Un attimo Un saltino Indietro Quindi Eccoli qua Allora Eccoci qua Presenta Condividi schermo Condividiamo Un attimo La foto Questo E' un esempio Di sistemi A rilevazione Sonora Prodotti Dai giapponesi Insomma Abbiamo Queste Sembrano Delle Megatube Collegate Appunto A dei sistemi Per l'ascolto Erano Posizionati Su dei carri Semoventi Dove si poteva Tramite Queste manopole Che vedete Ruotare Quindi In elevazione E in brandeggio Questo Questo complicato Sistema Per poter Scrutare L'orizzonte Il problema E' che appunto L'angolo Di rilevamento E' basso E soffrivano Di problemi Di rumore Di sottofondo Quindi Pensate Un attimo A mettere Tale sistema Nei paraggi Di una città Che può essere Tranquillamente Un obiettivo Militare Per un'aeronautica Nemica Che cosa Volesse dire Dove hai Del camion Dove hai Delle fabbriche Dove hai Tutta una serie Di rumori Che ti impediscono Di rilevare Correttamente Il nemico Questi sistemi Vennero Anche Utilizzati Dagli americani Cerchiamo Altre foto Quindi Ora Scusate Se perdiamo Un attimo Di tempo Ok Abbiamo Degli altri Degli altri Esempi Qua Questi Erano Prettamente Americani Salvo un attimo Qualche foto Così ve le proietto Tutte insieme Purtroppo Non ho avuto Tempo Di scaricarle Prima Quindi Vi chiedo Umilmente Perdono Se andiamo Nelle foto Quindi Tornando qua Dovremmo riuscire Ecco Questo È un sistema Di rilevazione Sonora Americano Vedete appunto Che partono i cavi Per andare Alle orecchie Dell'operatore In questione E questo Funzionava Piuttosto bene Finché si trattava Di rilevare Dei dirigibili Che hanno Una velocità Di crociera Piuttosto bassa Mentre qua Passiamo A un sistema Molto più interessante Scusate se l'immagine È sgranata Appunto Questi si chiamano I sound mirrors Sono Dei speciali Sistemi Sempre a Rilevazione Sonora Quindi Funzionavano Appunto Su un Raggio D'operazione Di circa 15 miglia Sempre Rivolti Quindi Agli zeppelin E come Funzionava Questa cosa L'operazione L'operatore Si doveva Porre Al centro Del fuoco Di queste Coniche qua Che vediamo Quindi Al centro Dove Andavano A convergere Appunto Le onde Sonore In interferenza Costruttiva Per amplificare Il segnale E rimanere In ascolto Di eventuali Zeppelini In arrivo Anche questo Sistema Molto interessante Contro I dirigibili Nemici Però Diventarono Piuttosto Ossoleti Quando Di fronte Ci si trovava La Luftwaffe Quindi Erano Piuttosto Inefficienti Diciamo Che Quello A sinistra Come apertura E Circa Da 200 piedi Quello A metà Era Da 20 piedi E questo Qua a destra Era sui 30 piedi Questo veniva Fatto appositamente Per poter Avere Maggiore Accuratezza Durante Le Rilevazioni Invece Passiamo A quello Che interessa Ovviamente A noi Siccome Siamo qua Per parlare Del radar Che cos'è Il radar E come funziona Ora Dovremmo fare Un breve accenno Molto concettuale E poi All'interno Di tutta questa Lunga serie Vedremo poi Passo a passo Come funziona Il radar Vi basti sapere Che il sistema Di base Di funzionamento È questo Noi abbiamo Un'antenna Ora Ve la faccio Semplice Volutamente Perché poi Andremo a Complicare Le cose Durante Tutto Il corso Ma Dobbiamo procedere Per gradi Abbiamo un'antenna Facciamo un'antenna Direzionale Che emette Un segnale Un'onda Elettromagnetica Questa volta Non è più Un'onda sonora Cerchiamo di disegnare Un segnale Trasmesso In questo modo Qua Posizioniamo Un oggetto Ad esempio Una pallina E che cosa Accade Se mandiamo Un'onda Elettromagnetica Nello spazio Avremo appunto Questa Trasmittente Che inviera Un'onda Ecco Ora Potevo Farlo anche meglio Correggiamo Che cosa succede Che questo Oggetto Ad un certo punto Riflette Parte Della radiazione Che gli abbiamo Inviato Quindi Diciamo Che il concetto Di base È quello Di inviare Una Dell'energia Elettromagnetica Verso Un corpo E poi Questo La rifletterà E dovremo Essere capaci Di ricevere L'onda Riflessa Quindi il radar Agisce Su più fasi Prima fase Trasmissione La nostra La nostra Antenna Agisce come Antenna Trasmittente Dell'onda Elettromagnetica Seconda fase Riflessione Riflessione Quando Appunto L'oggetto Viene colpito Tre Una parte Dell'energia Riflessa Dal radar Viene Inviata Verso L'antenna E questo Si chiama Radar Eco E l'energia Ricevuta Dall'antenna Ecco Quarto punto Che è quello Che ci interessa Viene Rilevato Il tempo Tra la Trasmissione E la Ricezione Quindi Delta T Viene Rilevata La variazione Di tempo Tra Il Rice La Ricezione E La Trasmissione E Questo Viene Indicato Più o Meno Così Dove C E la Velocità Della Luce E R E Il Range Quindi La portata Del nostro Radar Tranquilli Poi con la Matematica Avremo Modo Di divertirci Quanto Vogliamo Diciamo Che Il radar Non è nato Dal nulla Ci furono Varie Intuizioni Molto Spesso Nelle Prime Fasi Comunque Della Radiotrasmissione Quindi Pensate Agli anni 20 E I primi Anni 30 Quando Spesso Si facevano Delle Comunicazioni Aerei Accadeva Una cosa Interessante Cioè Che il segnale Ricevuto Era molto Spesso Scadente Quindi Un aereo Parlava Ad esempio Al suolo E si notava Che comunque Il segnale Era molto Lieve Oppure Scadente Quindi Gli scienziati E i fisici Cominciarono A domandarsi Un attimo Ma non Può Essere Che parte Di questa Energia Trasmessa Dall'aereo Venga In qualche Modo Dissipata O Riflessa Altrove E non Arrivi Tutta Noi Quindi A questo Punto Lo US Naval Research Lab Si accorse Che al Diminuire Della Distanza Migliorava Il segnale Sintomo Che faceva Credere Appunto Che avvenisse Qualche Sorta Di dispersione O riflessione Vennero Condotti Degli Esperimenti Sulla Potmack River Negli Stati Uniti Dove Vi era Appunto Uno dei Più Famosi Laboratori Di Radiotrasmissione Dell'epoca Facendo Passare Degli aerei Sopra Il fiume Situando A terra Delle stazioni Trasmittenti E si vide Che appunto Mentre l'aereo Passava Sulla verticale Delle nostre Riceventi A terra Il segnale Migliorava Mentre Quando l'aereo Si allontanava Il segnale Peggiorava Se vogliamo Trovare Un padre Del radar Possiamo Citare Tranquillamente Sir Robert Watson Watt Questo Signore Qua Che ottiene Il brevetto Per il radar Nel 1935 I britannici Al tempo Erano molto Molto avanti Con le ricerche Del radar Come mai? Perché appunto Gli inglesi Si trovavano In una situazione Piuttosto Pericolosa Siccome I tedeschi Si stavano Riarmando E loro Avevano Una necessità Di difendere Appunto L'Inghilterra Da qualche possibile Attacco nazista Al tempo La Kriegsmarine Era Molto poco Diciamo Efficace Nei confronti Della Royal Navy Molto più forte Come spiegheremo Dopo Però I tedeschi Avrebbero potuto Tramite Gli aereo siluranti Come si era già visto E si cominciava a vedere In quegli anni Nel Teatro Del Pacifico Gli aereo siluranti Potevano essere Molto Molto Pericolosi Per Le Flotte Navali Perché appunto Riuscivano a neutralizzare Abbastanza facilmente Degli aerei Scusate Non vi avevo Messo di nuovo La visione Del tablet Chiedo perdono Quindi siamo arrivati A questo punto qua Chiedo perdono Errore mio Quindi Vi fu appunto Questa necessità inglese Di sperimentare Queste tecnologie Che avrebbero potuto Fornire Un vantaggio Lato Situational Awareness Durante Un'eventuale Guerra Robert Watson Fu Uno degli sviluppatori Più importanti Iniziamo i contributi Del signore Furono Il Chain Che vedremo A breve Di che cosa si tratta Praticamente Delle difese Radar Antiaeree Del United Kingdom E poi Abbiamo Un contributo Fondamentale Di Robert Watson Watt Sul Ground Control Intercept And Airborne Intercept Radar Cioè Detto in parole Semplici I sistemi Radar Da Rilevamento Terrestre E i sistemi Radar Imbarcati Sugli aeroplani Quindi Radar A terra E radar Aerei Nel 1939 E 1940 Succede una cosa Importante Infatti Ci fu La Tizard Mission Scritta così Gli inglesi Del gruppo Di Tizard Che fu Il capo Del gruppo Di ricerca Sui radar Vennero Invitati Negli Stati Uniti D'America A insegnare E sperimentare Cose Sui radar In modo Da istruire Appunto I team Di ricerca Americani Il capo Della Della spedizione Era appunto Sir Henry Thomas Tizard Venne Inviato Negli Stati Uniti D'America Insieme A sei Suoi Collaboratori E Una Blackbox Con Un Cavity Magnetron Uno strumento Generatore Di energia Eletromagnetica A bassa Lunghezza D'onda Parliamo Circa Di Dieci Centimetri Di lunghezza D'onda Quindi Cavity Ora Vedremo Anche La foto Vi anticipo Una cosa La lunghezza D'onda La indichiamo Con la lettera Greca Lambda Che In questo caso E' pari A Zero Virgola Un Metri Diciamo Che Venne scelto Questo moto Anche perché Le antenne Che Erano sviluppate E funzionavano Nell'Inghilterra Quindi Le antenne Del chain Home Erano così Grandi Che era impossibile Trasportarle Fino negli Stati Uniti Perché Parliamo Di antenne Che Andavano Su Delle Frequenze Molto Basse Con Delle Lunghezze D'onda Enormi Si parla Di 20 30 Metri Di lunghezza D'onda E anche Di più Quindi Come vedremo All'interno Del corso L'antenna Di per sé Deve essere Calcolata E calibrata In base Alla lunghezza D'onda In cui si vuole Trasmettere O ricevere Non si può Usare un'antenna Alla cavolo Quindi Si manda Appunto Un cavity Magnetron Da 0,1 Metri Di lunghezza D'onda Mentre I sistemi Originali Di Radar Funzionavano Su potenze Tra l'altro Di 10 Kilowatt Quindi Cose Abbastanza Importanti Ora Vediamo La foto Di un Cavity Magnetron Ora Cerco Di Trovarvene Una Non Spaventatevi Perché Andremo Poi A vedere Quando avremo Le basi Di fisica Come Funziona Tale Strumento Questo E Un Magnetron Ora Vi Spengo Lo schermo Qua Vi presento La foto Quindi Finestra Torniamo Le nostre Belle Foto Anche se Questa Faceva Piuttosto Schifo Questo Simpaticone Qua Questo Aggeggio Qua Che si Vede Anche Sgranato Purtroppo E Un Cavity Magnetron Basti Sapere Per ora Che Possiamo Chiamarlo Come Generatore Di Onde Eletromagnetiche Ora Torniamo Alla Nostra Presentazione Eccoci qua Finalmente Quest'oggi Il tablet Funziona Piuttosto Bene Allora Che cosa Avvenne Dopo La Tzar Mission Che All'MIT Alla Famosa Università Del Massachusetts Tra il 1940 Fino al 1945 Quindi durante la guerra Si venne a creare Il Radiation Laboratory Che fu Una delle istituzioni Nel mondo scientifico Più importanti E prestigiose Al mondo A quel tempo Basti Pensare Che Se Uno Durante Corsi Di fisica E ingegneria Veniva Notato Per Eccellenti Doti Cognitive E competenze Aveva Due vie Al tempo O Andare a Lavorare Al progetto Della bomba Atomica Oppure Andare a Lavorare All'MIT In questo Molto prestigioso Laboratorio Che Arrivò A circa Quattromila Dipendenti Durante L'intera guerra Nove Dei quali Furono Successivamente Poi Dei premi Nobel Quindi Una roba Di tutto Livello Un po' Come Parlare Del CERN Oggi Giusto Per Capirci A quale Livello Di competenze Facciamo Riferimento Dopo Aver Compreso L'importanza Della tecnologia Del radar Fu creato Appunto Questo Laboratorio Che Sviluppò Molti Prototipi Di radar Circa Cento Modelli Con Un budget Di 1,5 Miliardi Di dollari Contemporanei Quindi Non 1,5 Miliardi All'epoca Ma Di quegli Odierne Giusto Ve l'ho Già Tradotto In cifre Odierne Per darvi L'idea Di quale Fosse A grandi Linee Il budget Di questo Laboratorio Questi radar Vennero Sviluppati E studiati Proprio Utilizzando All'inizio Quasi Sempre Questo Cavity Magnetron Progettò La metà Dei radar Della seconda Guerra mondiale La metà Dei sistemi Radar Utilizzati Sulle navi Sugli aerei Eccetera E anche A terra Della seconda Guerra mondiale Furono progettati Da questo Laboratorio Quindi Potete capire La portata Di questo Team Di ricerca Si Sviluppò Anche Un famoso Radar Lo S CR 584 Lo Segniamo Qua Cavolo Non volevo L'arancione Che è Un famoso Modello Di radar Che vedremo Nella prossima Puntata Che Fu Molto Molto Importante Si chiamava Il Fire Control Radar Questo Tipo Di radar Come suggerisce Il nome Si occupava Di direzionare Le Antiaeree Quindi Individuare Il bersaglio E Puntare Correttamente Una batteria Antiaerea E Parliamo Di Una lunghezza Donda Questa Volta Di Circa Dieci Centimetri Quindi Come Quel cavity Magnetron Che fu Burtato Dagli Inglesi Negli Stati Uniti Un altro Esempio Dei radar Serie SCR Questa Volta Un SCR 270 Era A distanza A Dohau A Dopama Point A nord Di Pearl Harbor E riuscì Tra l'altro Durante Il famoso Raid A Scovare La formazione Nemica 55 minuti Circa Prima Dell'attacco Però Accade Una cosa Molto Molto Triste Perché Appunto Gli operatori Di questa Stazione Riportarono All'alto Comando La situazione Avvisando Che Era In arrivo Un Una Mucchiata Di Aerei Nemici Però A Questo Punto Nonostante Il blip Sullo Schermo Perché Non pensate Che i radar Antichi Avessero Appunto Quello Che si fa Vedere Spesso Nei film Quindi Tutto Questo Schermo Precisino Con le Onduline Che Erano Degli schermi Più o meno Basilari Che ti Facevano Semplicemente Vedere Un Piccolo Pallino Luminoso Detto Blip L'alto Comando Si Rifiutuò Totalmente Di prendere In Considerazione Questo Allarme Perché Appunto Erano Aspettati Dei B 117 In quella Mattinata Quindi Si disse Vabbè Sapete Da nord est Non è un gran problema Se sta Se si vede Ora con radar Una mucchiata Di aerei Perché Molto probabilmente Devono arrivare Degli aerei Dalla west coast Quindi Venne preso Tutto sotto Gamba Si trovarono Con le braghe Calate E successe Quello che Sappiamo tutti Dopo aver letto I libri Di storia Ora Passiamo A un'applicazione Del radar Molto interessante Su cui ci concentreremo In questa puntata Il Chain Home Rider Quello che abbiamo Nominato Poco prima Ora Scusate Mannaggia a me Questa arancione Se da fastidio Poi Vedremo Anche una foto E che cos'è Il Chain Home Fu un sistema Radar Progettato Dal 1936 Nato Appunto Da Grandi Preoccupazioni Inglese Per un'invasione Da Dover Nel canale Della Manica Perché voi Pensate un attimo Alla geografia Della zona Nel punto Più stretto Circa Si può vedere Appunto La costa Francese E tra l'altro Ci sono Dalle 12 Alle 15 Miglia In distanza Un problema Molto serio Perché Come abbiamo Già accennato Prima Il punto Dei tedeschi Era principalmente Questo Inizialmente L'idea Nazista Era quella Di piegare L'Inghilterra A causa Del blocco Navale Eccetera Come abbiamo Già spiegato In altri video Di storia Su questo canale Piegare Gli inglesi Alla loro volontà Quindi portarli Ad una resa Per far questo Serviva La superiorità Aerea Totale Sopra i cieli Dell'Inghilterra In una seconda fase Si pensò Addirittura Ad un'invasione Quindi a uno sbarco Di invasione In Inghilterra Però Appunto Vi era Un problema Perché ricordiamo Che l'Inghilterra Al tempo Aveva ancora Un vasto impero E una marina militare Piuttosto potente La Royal Navy Era Immensamente Più potente Della Chris Marine Quindi Il punto Era quello Innanzitutto Di guadagnarsi La superiorità Aerea Questo perché Gli aerosiluranti Tedeschi Avrebbero potuto Silurare E affondare La Royal Navy Che si trovava In zone sicure Nei porti Della Scozia E quindi Poi procedere A un'operazione Anfiglia Quindi divenne Importantissimo Non lasciare Che i tedeschi Guadagnassero La superiorità Aerea Questo accade Nella Battle of Britain Una famosa Battaglia Di Guilterra Mi sembra Che si chiami Così In italiano Comunque Il ruolo Fu questo A questo punto Si creò Una Un sistema Di Ventun Radar Sulle coste Inglesi Un sistema Di Ventun Radar Quindi Che cosa Possiamo dire Che al tempo Si decise Di creare La rete Radar Perché La Luce Faffe E La Royal Air Force Quindi la RAF Erano Dal punto di vista Tattico operativo Più o meno Pari Quindi Vi era un serio Rischio Di potersi Far vincere Dal nemico Per raggiungere Appunto Una curiosità Questo Il problema Buon pomeriggio D'arena Che stavo Dicendo Ah sì Che Appunto Vi era Un serio Problema Nelle operazioni Aeronautiche Perché I tedeschi Tendevano Ad arrivare Con una Mucchiata In una Vector Formation Come si dice In gergo Quindi Una specie Di fila indiana Se vogliamo Dirla così Di caccia I bombardieri Per arrivare In Inghilterra E ottenere Quello che si dice La superiorità Tattica locale E poter sganciare Le proprie bombe E tornarsene Tranquilli a casa Il problema È che Gli inglesi Dovevano Innanzitutto Per lustrare I cieli Di tutta L'isola Maggiore Della Gran Britannia Quindi L'aeronautica Di per sé Già Era sparpagliata Mentre i tedeschi Potevano avere Una superiorità In una data Area Problema Secondo Come abbiamo detto All'inizio La distanza Del canale Della manica Era più o meno Breve Quindi Alla velocità Dei bombardieri Dei caccia tedeschi L'operazione Di bombardamento Poteva avvenire In un breve Lasso di tempo Quindi serviva Un'alta flessibilità Al comando Per poter dirigere Forse Che cosa succede? Che il problema Della situational Awareness Che abbiamo detto All'inizio Della presentazione Torna Puntualissimo Il radar Riesce appunto A rilevare L'avvicinamento Di velivoli Tedeschi A circa Un raggio Di 160 miglia Davanti Alle nostre antenne Quindi Quindi In questo tempo È possibile Valutare La consistenza Delle Della Aeronautica In attacco Poter Comunicare Tutto questo Al comando Della RAF A questo punto Il comando Tranquillamente Sapendo dove Sta arrivando Il nemico Dove si trova Qual è la velocità Qual è la direzione Di avanzamento Può inviare I propri caccia A contrastare I caccia E i bombardieri Tedeschi In modo Da cercare Di fermarli Prima che Arrivino In Inghilterra E fu Principalmente Grazie a Questi sistemi Radar Che venne anche Vinta la Battaglia In Inghilterra Ecco Che cosa Succede Proviamo A Proiettare A proiettare La mappa Dei radar In Inghilterra Del Chain Home Ah ecco C'era già Aurora Che iniziava Le spiegazioni tecniche Molto molto bene Per ora Per qualche puntata Vi lascio ancora tranquilli Dalla prossima Vedremo qualche accenno Ma il bello Arriverà A metà serie Ma è molto interessante Ecco Vedremo anche Come funziona Il Magnetron Tante tante Belle cose Di matematica Allora Tornando Alle cose Relative Alla puntata Mi presento La mappa Di questo Chain Home System Ecco qua Peccato che Le foto Siano sgranate Come poche Mannaggia me Allora La solita fortuna Del principiante Con le live Quindi Vi Cerco di proiettare La foto Allora Mannaggia me Non funziona mai niente Teparea No Ho salvato Il link Ho salvato L'immagine Ok Ah Guardala qua Vediamo La mappa Delle 21 Stazioni Del Chain Home Allora Eccoci qua Purtroppo E' sgranata Quindi vedete Che le stazioni Si Erano poste Appunto Nella zona Diciamo Sud Dell'isola E Ovest Cioè Scusate Est Quanto sono stupido Scusate Il frantedimento Proprio appunto Per cercare Di individuare Un Possibile Attacco Tedesco E non a caso In questa zona A sud-est C'è la maggior Concentrazione Di stazioni Radar Proprio perché La gran parte Degli attacchi Tedeschi Percorreva Appunto Queste vie Aeree Che cosa Possiamo dire Su Il Chain Home Innanzitutto Cerchiamo di Elencare Alcune caratteristiche Tecniche Che poi Spiegheremo E capirete Molto meglio Andando avanti Con Con appunto Questa serie Torniamo Alla nostra Visione Del tablet Allora Le caratteristiche Tecniche Del nostro Chain Home Quindi Ora parliamo Del Chain Home Quindi Le antenne Alte Il low Lo vedremo Un attimo Dopo Abbiamo Delle antenne Quindi Caratteristiche Abbiamo Una lunghezza Donda Quindi Lambda Da 10 a 15 Metri Quindi Abbiamo Già un indizio Una lunghezza Donda Molto Molto Grande Per essere Un radar 10 Barra 15 Metri Di lunghezza Donda E una Frequenza Di conseguenza Sui 20 Ai 30 Megahertz Tranquilli Per chi Non mastica Molta Matematica Vedremo Brevemente Poi Alcune Basi Che cos'è La frequenza Che cos'è La lunghezza Donda Faremo Una puntata Proprio Introduttiva Per Recuperare Tutti Gli utenti E facilitare Appunto La serie A chi Propriamente Non mastica Queste cose Abbiamo Un'antenna Che Sarà Divisa In due Parti Come abbiamo Detto Tornando Qua sopra Il nostro Radar Deve Comportarsi In due Modi Prima Appunto Con L'onda Trasmessa Quindi Deve Essere Capace Di Trasmettere Un'onda Elettromagnetica E deve Essere Anche Capace Di Riceverla Quindi Di ricevere E di Ascoltare Quindi Avremo Parte Dell'antenna Che si Occuperà Della Trasmissione Che Indichiamo Con Il TX Avremo Una serie Di Otto Antenne Dipolo Più Quattro Antenne Dipolo Sfasate Quindi Otto Più Quattro Dipolo Poi Poi Avremo La parte Della Ricezione Ovviamente Abbiamo Un sistema Di Quattro Torri Poi Vi farò Vedere Con le Foto Capirete Meglio In Legno Con Una Forma Che Poi Vedremo Man mano In Questa In Questa Serie Che si Chiama La Crossed Dipole Detto Dipolo Incrociato Con Sistema I Low Tranquilli Terminologie Strane Che capirete Molto Semplicemente Niente Che spaventa Sono Solo Termini Da Nerd Che capiremo Meglio Andando Avanti Con Una Spiegazione Vi Do Ancora Alcune Alcune Informazioni Però Appunto Sono Cose Che Molto Probabilmente Se Non Masticate Queste Cose Non Capirete Che Cosa Sto Dicendo Ma Ricordate Vele E Poi Per Andarle Poi A Ripescare Quando Avremo Spiegato La Cosa Abbiamo Un Asimuth Beam Di Circa 100 Grad Ve Ve La Dico Malamente Anche Se Non È Proprio Corretto E I Fisici Giustamente Mi Lanceranno Una Testata Nucleare Diciamo Che È L'angolo Il campo Di Operazione Del Nostro Radar Quindi L'angolo Di Visuale Se Vogliamo Proprio Dire Ma Poi Vedremo Meglio Perché Ci Sono Molte Cose Abbiamo Una Potenza Al Picco Metto Il termine Inglese Perché Così Ci Capiamo Meglio Abbiamo Al Picco Una Potenza Di Circa 350 Kilowatt Ed È Una Potenza Molto Consistente Per Essere Comunque Un radar Spezia Quei tempi Dove La Disponibilità Elettrica Era Quella Che Abbiamo Un Raggio D'azione Quindi Di Rilevamento Quindi Gittata Possiamo Chiamarlo Di Circa 160 Miglia Per Appunto Gli Stuca Perché Il nostro Raggio Di Rilevazione Dipende Sempre Dalla Cross Section Del Nostro Bersaglio Detto in parole Povere Da quanto è grosso Il bersaglio Che dobbiamo Identificare Più è grosso Il bersaglio Più andiamo Lontani Più è piccolo Il bersaglio Più stiamo Vicini La sto dicendo In parole Molto semplici Anche qua I fisici Perdoneranno Perché È giusto A scopi Di Introduzione Per Gli Stuca A terra Che cosa Abbiamo Le nostre Quattro Torri Le nostre Quattro Torri Che sono Messe geometricamente In fase Apposta Per poter Trovare La direzione E il verso Dei tedeschi In avvicinamento Poi Spiegheremo Ovviamente Tutte queste Belle cose Per capire Come funziona Dal punto di vista Fisico Ora Passiamo A Qualche Foto Qualche Foto Su Questi Radar Se riesco Poi Vi spoilerò Quale è il mio Piano Quello di Pubblicare Un paio Di articoli Poi sul blog Sulla storia Appunto Di tutte Queste Vicende Come La Tizar Mission E il Chain Home Altre Cosucce Interessanti Per Giusto Approfondire Qualcosa Perché qua Parliamo Più Di Fisica Che di Che di Storia In questa Serie Allora Vediamo Alcune Foto Del Chain Home Allora Immagini Ecco qua Un'immagine Piuttosto Caruccia Passiamo Alla Visualizzazione Delle Foto Condividi Schermo Finestra Si Se non Apro Le Foto Sarà Dura Riuscire A Allora Questo È Una Foto D'epoca Del Nostro Chain Home Allora Abbiamo Le I Tre Pali I Tre Pali Che Sorreggono La Rete Di Trasmittenti Che Ora In Foto Purtroppo Non Si Vede Ma Vedremo Bene In Uno Schema E Queste A Parte Dei Pali Più Alti Se Vogliamo Chiamarli Così E La Parte Trasmittente Questa È La Parte Del Ricevente Che Sono Le Quattro Antennine Che Dicevamo Prima Messe Spasate Ora Vediamo Un attimo Come funziona Una Trasmittente Proprio Il Poco Che Si Può Dire A Questo Punto Dove Abbiamo Introdotto Piuttosto Poche Cose Inerenti Alla Matematica Qua Abbiamo Una Bella Foto Quindi Cerchiamo Di salvarla Foto 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 Allora Vediamo un attimo Perché Ok Eccola Qua Cerchiamo Di zoomare Un attimo Così Allora Qua Vediamo Bene Questa È L'altezza Non so Nemmeno Se Si può Avere Tipo Una specie Di puntatore Laser Non credo Proprio Non vedrete Nemmeno Il mouse Molto Probabilmente Mannaggia A me Ok Possiamo Farci poco Quindi Spero Che sia Poi Comprensibile Allora Abbiamo Le antenne Trasmittenti Questi Sono I due Pali Che Sorreggono L'antenna Abbiamo Dei pali Alti 360 Piedi Delle Trasmittenti Le Trasmittenti Sono Queste Otto Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Che Sono Posizionate Sono Dei dipoli Trasmittenti Posizionati A Diciamo Con Dei Varchi Pari Alla Metà Della Lunghezza D'onda Quindi Se Vedete Abbiamo Una Larghezza Di Lambda Mezzi E Poi Dopo Un'altezza Che Separa La Nostra Antenna Trasmittente Che Sarebbe Quella A Cui Punta La Freccia Main Antenna Separati Appunto Da Un'altezza Di Lambda Mezzi E Vedremo Poi Perché Si Sceglie Proprio Questa Distanza Poi Dopo Abbiamo Una Gap Filter Antenna Questo Perché Per Farla Breve Trasmettendo Solo Con Gli Otto Dipoli In Alto Si Vanno A Creare Tutta Una Serie Di Varchi Che Devono Essere Coperti Con Un' Antenna Un' Attimo Diversa Più Basso La Parte Della Torre Ricevente Appunto E Emessa In Proporzione Come Vedete Dalla Foto In base Proprio Al Design Dell'antenna Trasmittente Quindi Ora Che cosa Possiamo Dire Giusto Per Non Incancrenirci Troppo Con 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 Questioni Fisiche Possiamo Ad esempio Parlare Prima Ancora Della Chain Low E Di Capire Come Mai Si Creò Anche Esatto D'Arena Si Con Il Calcolo Del Tempo Necessario Al Ritorno Del Segnale Si Desume Appunto La Distanza A cui Si Trova L'oggetto Individuato Allora Che cosa Possiamo Dire Senza Complicare Troppo Troppo La situazione Vediamo Come funzionava Appunto Tutto Questo Sistema Dal Punto Di Vista Militare Siccome Per Capire Un attimo Dal Punto Di Vista Fisico Dobbiamo Cominciare Poi Dalla Prossima Puntata A Finire La Storia Dei Sistemi Radar Quindi Accennare Va Tutta L'evoluzione Fino Ai Moderni Sistemi Vedendone Alcuni Dal punto Di Vista Più Fotografico Che Altro Per Poi Introdurre Le Basi Di Funzionamento Questa È una Foto Quella Che sto Per Proiettarvi Di Un Operatore Che Si Trova A valle Della Ricevente Quindi Fatemi Un attimo Così No Non è Questa No Non si Vede Mannaggia A me Devo Trovare Un'altra Soluzione Perché Me la salva In un formato Fuori Dal Normale Salva Immagine Con Nome Ok Mannaggia A me Come Fare Per far Vedere Sta cavolo Di Immagine Facciamo Così Allora Datemi Solo Un attimo Abbiate Pazienza Che La Boomeragine Si fa Sentire Nonostante L'età Non sia Avanzata Ma Ecco Mi Spiace Utilizzare Dei Metodi Così Tanto Legit Ma È Quello Che Ci Rimane Da Fare Ecco Scusate Proprio L'inettitudine Questa Signora Qua Che vedete In foto È Un'operatrice Che si occupa Della ricevente Davanti a lei Ha tutto Uno Scherbo Qua La parte nera Che potete vedere Poi dopo Tramite Apposite Griglie Ai tempi Si riusciva A Valutare La grandezza Del nostro Bersaglio E Varie cose Quello Che ha Sulla Mano Sinistra È una Specie Di Goniometro Che va Ad Interagire Con L'antenna Ricevente Che ha Appunto Diciamo Una Sfasatura Apposita Per Diminuire Diciamo L'angolo Di ricezione In modo da Essere Più Precisi Possibili Con Con Rilevamento Del nemico Che sta Avanzando Quindi Dagli amici Di Herman Goering Che si stanno Dirigendo Verso L'Inghilterra Poi possiamo Vedere ad esempio Una foto Del sistema Elettronico Di trasmissione Per farvi capire Quanto Erano Grandi Ai tempi Allora Questo Preso Da Kiwipedia Allora Maledizione Salva Immagine Con Nome Ok Dovrebbe Vedersi Questa Invece Prossima Volta Vi giuro Che Mi salvo Le immagini Prima Della Presentazione Scusate Devo ancora Imparare Un attimo A fare Le live Quindi Passiamo Un attimo Alla Presentazione Questa È L'armadio Appunto Del sistema Che va A gestire La Trasmittente Ecco Giusto Per farvi capire Oggi Siamo Circa Un decimo Della grandezza Il problema Più grosso È il cablaggio Ma le unità Elettroniche Oggi Sono gestite Dal punto di vista Informatico E sono molto Molto più Ridotte Comunque Contate che Questi Apparecchi Dovevano Transitare Delle potenze Elettriche Pari A 350 Kilowatt Quindi Cosa Non da poco Pensate Ad esempio Che la luce Che vi arriva a casa In termini di potenza Parliamo molto spesso Di una potenza Di 3 kilowattora Al picco Per farvi capire Una decina di volte Casa vostra Quando avete Tutto Al picco Poi Che cosa succedeva Partiamo da questa Trasmittente Va All'operatore Che abbiamo Visto prima Che Rileva L'avvicinarsi Dei nostri Nemici Poi abbiamo La sala Delle operazioni Quindi Ecco qua Salva Immagine Mi sto già vergognando Del tempo Che vi faccio perdere A causa Di questa Di questo Mio problema Tecnologico Ecco qua Purtroppo Le immagini Proiettate a schermo Quelle storiche Sono piuttosto Sgranate Quindi qua Abbiamo Praticamente Il centro operativo Della nostra Stazione radar Dove Gli operatori Prendono i dati Rilevati Appunto Dall'operatore Della ricevente E cercano Di tracciare Appunto Sulla mappa Direzione Verso di avanzamento E consistenza Della forza aerea A questo punto Viene Passato Da questa Plotting area Questa è la Plotting area A monte Della Plotting area Abbiamo ad esempio Questa La sala Comunque Di gestione Ora Cerco di Proiettarvela Allora Ecco Questa qua È la sala Gli operazioni Vedete L'operatore A metà È quello Che si occupa Appunto Della ricezione Qua abbiamo Una signora Sulla sinistra Che è l'operatrice Che si occupa Di disegnare Sulla carta E fare tutti I suoi Bei conticelli Perché un tempo Non vi era L'ausilio Dei computer Che si occupavano Di conti Piuttosto complessi Ma bisognava Farli a mano E possibilmente Non sbagliarli Se no I tedeschi Le avrebbero suonate Amaramente Quindi Dalla Plotting area Si passa All'operation Room Dell'Air Group In questione Ad esempio Portiamo una foto Del Del decimo Stormo Della Royal Air Force A questo punto Dovrei Aprire le foto Ok No Non funziona ancora Fatemi provare Così Ok Questa foto Stranamente Non è sgranata Condividi schermo Ok Ci sono Ciao ragazzi Ciao Massimiliano Ciao Epopea Risorgimento Ciao Ciao a tutti Questa È la sala Della pianificazione In particolare Del Air Group 10 Dove appunto Vi è il Comando Dell'aeronautica Con queste Signore qua Intorno a questo Tavolo Che stanno facendo Una cosa Piuttosto Semplice Vi è una mappa Dell'Inghilterra Loro vanno a segnare Il punto dove È stato comunicato La direzione Di avvicinamento Della Luftwaffe E a questo punto Il comando Prenderà Tutte le sue Decisioni Per andare A Colpire Il nemico Ecco Ultima cosa Che ci rimane Da Vedere È La cosiddetta Chain Low Antenna Cerco Di farvi Vedere Una foto Dopodiché Passiamo Di nuovo Al tablet Con la foto Sicuramente Capite Subito Meglio La Questione Allora Mannaggia Devo di nuovo Cominciare Da capo Quindi Questa Meno male Si vede Di nuovo Bene Eccoci qua Questa È una Chain Low In cima A questa Antenna Proprio Sulla Sulla Parte Apicale Del palo Abbiamo Una Trasmittente Da 32 Dipoli Voi Voi Dovete Pensare Che La Chain Home Quindi Le Trasmittenti E le Riceventi Erano Poi Appaiate Con la Chain Low Era Tutto Un Sistema Non è Che Trovi In un Punto La Trasmittente 50 km Sopra La Riceventi Era Tutto In una In una Singola Area Geografica E oggi Molte di Queste Antenne Tra l'altro O sono tenute Come museo Della seconda Guerra mondiale Ma in altri Casi sono state Ammodernate E ristrutturate E hanno Ruolo di Base Station Nelle più comuni Impieghi Di Radiotrasmissioni Pensate Alla rete Dei cellulari Alla rete Internet Pali Di Antenne Telefoniche Eccetera Eccetera Stazioni Meteo Tutte Queste cose Qua Torniamo Al nostro Tablet E poi Giuro Che Terminiamo La puntata Siccome Sta durando Già un po' Troppo E per essere Una serie Che sarà Lunga Se le puntate Sono troppo Ampie Si rischia Di perdere Un attimo Di attenzione Specie in quelle Che saranno Un po' Più Tecniche Quindi Nell'estate Cominciamo a mettere un bel titolino La chain low Che viene completata Dall'estate Fino a settembre Del 1940 Viene completata Tutta questa Rete Di radar Con La chain home E la chain low La chain low Viene Aggiunta Proprio perché Quando lavori Ve la spiego di nuovo In modo semplice Poi capirete meglio Con Con le varie spiegazioni Dove andremo a parlare Di formulette Simpatiche Matematica Altrettanto Caruccia Quando operiamo Quando operiamo con Una lambda Grande Quindi come quella Della chain Nome Abbiamo Dei vari Punti ciechi A bassa Elevazione Quindi Abbiamo Dei punti ciechi In cui Non possiamo Rilevare Il nemico Se appunto Il nostro angolo Di elevazione Chiamiamo Un angolo Alpha Ad esempio E minore Di 2 gradi Quindi Che cosa succede Si sviluppa Un sistema Che funziona A 200 Megahertz Anziché A 20 Megahertz Come La Chain Home A questo punto Abbiamo Si Un range Molto Più limitato Perché anziché 160 Miglia Parliamo solo Di 25 Miglia Quindi Non so come Chiamarlo In realtà In italiano Non so se si può dire Gittata Al massimo Qualche fisico Sa voglia di Cazziarmi Nei commenti È il benvenuto Così imparo Come si dice In italiano Il range Del radar Abbiamo 25 Miglia Ad un'altitudine Di 500 Piedi Utilizziamo Delle unità Di misure Un po' Stupidine Ma è più che altro Perché Parlando di Termini Aeronautici Quelle Sono Le unità Di misura Dal punto di vista Standard Utilizzate Quindi Sistema Imperiale Cerchiamo di Proiettare Un attimo Una mappa Di questo Chain Home E Di trarre Alcune Conclusioni Che sicuramente Gli appassionati Di seconda guerra mondiale Sanno A memoria Quindi Che cosa Possiamo Dire Ecco Questo È il Coverage Del Ok Allora Fatemi Passare Un attimo Al Alla Foto Mi prometto Che Prossima Volta Risolviamo Tutti i problemi Legati Alle immagini Quindi Queste perdite Di tempo Non ci saranno Più Questa È la copertura Vedete Una mappa Praticamente Dell'Inghilterra Quella Con La La linea Più scura Quella più grande Come da leggenda Vediamo Il coverage Del Del Home Chain Qua c'è la Francia Un paese Bassi Eccetera E qua Si vedono Alcune Coste Norvegesi Comunque Per farvi Capire Che cosa Significa Allargarsi Di 200 Miglia Dalla Costa Inglese Ecco Benone Ho perso La penna Del tablet Non l'ho Trovata Quindi Possiamo Tracciare Alcune Conclusioni Si Si Se so Anche Scrivere Che cosa Possiamo Dire In primo Luogo Qua Voi appassionati Di storia Sapete Benissimo Vantaggio Appunto Scusate Gioco Di parole Il comando Della Royal Air Force Riusciva Ad ottimizzare Molto Le sue forze Che tra l'altro Nei tempi Della battaglia D'Inghilterra Erano piuttosto Scarse Diciamo Che avevamo Quasi una parità Numerica Con la Luftwaffe Quindi Era molto Importante Compensare In quei punti In cui stava Arrivando Un nemico Dove avrebbe Potuto avere La superiorità Tattica Locale Quindi Superiorità Tattica Locale Di conseguenza I tedeschi Non ebbero Mai La superiorità Aerea In Inghilterra In secondo luogo I tedeschi Non poterono Mai invadere Il Regno Unito Ora Se ci pensiamo Spesso Gli aspetti Diciamo Questa è una mia Considerazione Spesso Gli aspetti Della scienza Quindi della fisica O di scienze Piuttosto che Nell'immaginario collettivo Sono piuttosto Relegate al mondo Dei nerd Vengono Sottovalutate In caso di guerra O come importanza Generale Ma se ora Ci rendiamo conto Di che cosa Voleva dire Avere una superiorità Tecnologica Sul nemico E il ruolo Svolto Appunto Da avere Una tale Tecnologia Ok sviluppata Per nerd E a un certo punto Una cosa molto All'avanguardia Riuscì veramente Ad avere Degli effetti Che possiamo dire Tranquillamente Determinanti Sulla seconda guerra mondiale Perché ricordiamo L'importanza Del blocco navale Alla Germania Durante la seconda guerra mondiale Come ne abbiamo già parlato In tutta la faccenda Del petrolio Dell'asse E quindi La difesa inglese Aveva un'importanza A livello strategico Per l'intera Seconda guerra mondiale Era fondamentale E in questo caso Il radar Ha svolto Un ruolo fondamentale Ancora oggi Quando parliamo Di guerra in Ucraina Vediamo spesso Che si parla Di radar Di intercezione Di missili Eccetera Eccetera Quindi L'intento di questa serie È più o meno Fornirvi degli strumenti Per capire Innanzitutto Come funzionano i radar Quali sono le caratteristiche Di diversi tipi di radar E come progettare I radar Ai vari utilizzi Ad esempio Se dobbiamo intercettare Un missile in aria Se invece Il nostro scopo È demolire Un bersaglio a terra Che si sta muovendo O ricercare aerei nemici Ci possono essere Tantissimi ruoli Del radar Comunque Quando andremo A parlare Di missili Vi ricordo Che è mia intenzione Iniziare anche Un'altra serie Come questa Fatta in live Proprio perché Uno mi manca il tempo E in secondo luogo È molto più semplice Andare a braccio Come stiamo facendo ora Perché richiede Meno tempo di preparazione E possiamo scorrere Un po' di più Con i video Sperando sempre Di non scadere Lato qualità Dei contenuti Quindi fatemi sapere Che cosa ne pensate Io ora Vi saluto Chiuderò la trasmissione A fine trasmissione Andrò ad editare La descrizione Quindi mettendo il link A un file PDF Che farò Sistemando gli appunti Che abbiamo scritto Qua sul tablet Oggi in live Così potete avere Tutto lo schemino Della live In secondo luogo Andrò a mettervi Un po' di fonti Interessanti Per coloro Che vogliono Approfondire La storia dei radar Sperando di riuscire Poi a pubblicare Qualche articoletto Interessante Sul blog Da potervi Poi condividere Per approfondimenti Detto questo Detto tutto Vi saluto Ciao Darena Ciao Massimiliano Ciao a tutti E ci vediamo Appena riesco A riproporvi Una puntatina Del genere E procedere In questa serie Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti